Ciao e benvenuto al podcast finanza semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Puntata numero 14. Ciao, anche oggi proseguiamo con gli incontri con le SGR, con le società di gestione del risparmio. Oggi abbiamo Davide Renzulli di Columbia Threadneedal. Bene, ciao a tutti e benvenuti oggi al podcast finanza semplice. Oggi abbiamo un altro podcast di interviste, oggi intervistiamo il responsabile retail Italia di una società molto importante internazionale Columbia Threadneedal Investments, Davide Renzulli. Allora, due parole su di lui. Davide Renzulli, come ho detto, è responsabile retail Italia dal 2008 di Columbia Threadneedal, è stato dal 2000 al 2008 direttore vendite di American Express ed è stato dal 95 al 2000 sales manager di Cisalpina gestione e Batman Investments. Questa è un po' la sua, brevemente, la sua storia lavorativa. Adesso magari lui ci dirà qualcosa in più di lui e lascio la parola a lui. Ciao Davide, benvenuto. Ciao Alfonso, buongiorno a tutti. Allora, senti, ho detto qualcosa di sbagliato? C'è tutto giusto? No, tutto giusto Alfonso, ti ringrazio. Io lavoro nel settore finanziario dal 1995, quindi diciamo che ho superato ormai i 20 anni di carriera professionistica nell'ambito del settore finanziario e ho svolto diversi ruoli, da prima in una realtà tipicamente italiana, dopodiché in una realtà esclusivamente americana e in un ultimo appunto dal 2008 ad oggi in una realtà angolo americana perché appunto Columbia Threadneedal è una società con sede sia negli Stati Uniti ma chiaramente poi con un baricentro anche sul mercato europeo esattamente con la sede a Londra. Senti, due parole su Columbia Threadneedal perché un po' il grande pubblico a cui ci rivolgiamo sai che questo podcast è rivolto alle persone normali, all'investitore medio, con un linguaggio semplice. Chiaramente il marchio, salvo a noi consulenti finanziari del settore, che è un marchio molto famoso, ma sai che non è molto conosciuto. Dai un po' un'idea della posizionamento sul mercato mondiale di Columbia Threadneedal. Certo, Columbia Threadneedal Investments, come dicevo, è una società di gestione internazionale indipendente che fa parte di un gruppo finanziario molto più grosso e con delle solidità finanziarie interessanti. Columbia Threadneedal Investments è posseduta al 100% da una holding finanziaria che è Mary Price Financial, che è una società quotata sul listino azionario americano, quindi una società che chiunque può vedere i dati di bilancio in quanto siamo quotati sul listino e che capitalizza a largo circa 20 miliardi di dollari. Da un punto di vista della nostra società, quindi Columbia Threadneedal Investments, che cosa fa? È una società di gestione, quindi gestiamo e amministriamo i capitali a livello internazionale per la nostra clientela. Per noi la clientela si intende istituzioni finanziarie, compagnie assicurative, fondi pensione e soprattutto poi anche clientela retail, ovvero la clientela che chiaramente investe il proprio risparmio giornalmente e quotidianamente. Tramite fondi e sigav per essere più, cioè quello che sono gli investimenti delle persone singole e non delle grandi istituzioni. Esatto, il cliente retail è colui che proprio banalmente è il signor Rossi che ha del risparmio accumulato grazie alla propria attività lavorativa e che nei momenti in cui volesse investire il proprio risparmio, rivolgendosi a degli intermediari finanziari sul mercato italiano piuttosto che sul mercato spagnolo, tedesco, perché siamo presenti un po' ovunque, può rivolgersi all'intermediario per poter poi utilizzare e investire i propri risparmi all'interno dei nostri fondi comuni di investimento che sono di diritto lussemburghese. Quindi Columbia Threadneedal Investments è una società che oggi gestisce e amministra circa 450 miliardi di dollari. Come dicevo, ha due sedi principali, una a Boston e una a Londra. Da quanti anni esiste? Da quanti anni? Allora, formalmente la compagine attuale, ovvero il brand Columbia Threadneedal Investments è stato creato nel 2015 perché prima di quella data chiaramente eravamo due società completamente separate, quindi facevamo parte dello stesso gruppo, però c'era Columbia Asset Management sul mercato americano e Threadneedal Investments sul mercato europeo. Dal 2015 in avanti le due società sono state fuse sotto lo stesso brand e quindi questa è l'attuale compagine, però diciamo che la storicità del nostro gruppo risale a ben più indietro, quindi Threadneedal Investments è nata nel 1994, ma ancora prima erano delle unit trust inglesi e invece Columbia Asset Management in passato era addirittura tutta la divisione di Asset Management del gruppo Bank of America che noi abbiamo acquisito nel 2008. Quindi diciamo come storicità è bella anziana? Assolutamente, direi che addirittura la nostra capogruppo a Mary Price Financial è nata nel 1800, verso la fine del 1800, quindi è un'istituzione finanziaria che ha più di 100 anni di storia. Ok, quindi per semplificare sempre per il pubblico diciamo così non esperto, voi siete quelli che gestite i soldi che noi consulenti finanziari raccogliamo da loro per mettere nei fondi comuni e voi siete gli specialisti che decidono dove investirlo, come investirlo in azioni, in fondi Italia, estero, Brasile, America, Cina e quant'altro, dico bene? Certo Alfonso, noi diciamo che appunto come casa di gestione siamo specializzati nel gestire diversi tipi di classi di attivo, come gestore internazionale noi possiamo gestire gli investimenti sui mercati azionari a livello globale, a livello europeo, siamo molto riconosciuti per essere esperti e conoscitori del mercato inglese, possiamo investire sui mercati azionari asiatici, mercati emergenti, piuttosto che investire anche in tutto quello che è il mondo dell'obbligazionario, quindi dalle obbligazioni governative molto banalmente da titoli di Stato dei paesi europei a titoli obbligazionari di società private, quindi quando si parla del mercato obbligazionario corporate o addirittura il mercato obbligazionario a yield e anche le obbligazioni dei mercati emergenti. Davide, scusami, perdonami che ti interrompo, però allora, obbligazioni, facciamo un esempio di obbligazioni molto conosciute tipo un BTP, un BTP è un'obbligazione, dico bene? Assolutamente, assolutamente il BTP è il classico titolo ad esempio per il mercato italiano, come potrebbe essere invece il Bund per il mercato tedesco, come potrebbe essere, per esempio i bonus spagnoli sono invece relativi al mercato spagnolo. Le azioni sono un po' tutto quello che conoscono gli investitori che rappresentano le aziende che hanno delle produzioni di servizi industriali o quant'altro, e poi hai detto altre due parole del mercato a yield, se non mi sbaglio, e l'altra parola che hai detto è stata... Il mercato corporate. Corporate, ecco bravo, traduci mercato corporate e mercato a yield, così almeno lo traduciamo. Certo, l'investitore sa che le obbligazioni si dividono in due prestiti obbligazionari, uno è quello che abbiamo appena detto è emesso dagli stati, quindi c'è una garanzia data da uno stato che può essere quello italiano o quello spagnolo, poi invece le obbligazioni corporate non hanno alle spalle uno stato, ma hanno un'azienda privata, quindi molto semplicemente se l'azienda X volesse acquisire denaro sul mercato, la cosa più semplice è emettere un prestito obbligazionario che verrà sottoscritto dai vari investitori presenti sul mercato dove quell'azienda opera e a questo punto l'azienda riesce a recuperare denaro sul mercato a fronte del denaro che raccoglie, chiaramente essendo un prestito obbligazionario l'azienda si impegna a pagare all'investitore un tasso di interesse che può essere periodico, quindi trimestrale, semestrale o addirittura annuale. Quindi la differenza fra un'obbligazione emessa da uno stato come quello italiano e un'obbligazione corporate sta nell'emittente, quindi da un lato lo stato italiano, dall'altro una società privata. Ok, quindi diciamo allora per semplificare sempre, le azioni rappresentano una compartecipazione e che io divento azionista di quella società, quindi partecipo agli utili e alla rivalutazione di quell'azione, questo è il mio guadagno possibile, mentre invece un'obbligazione io presto i soldi a questa società alla quale mi dà un interesse, la società o lo stato, esatto lo dico bene? Assolutamente, con l'obbligazione diciamo che diventi creditore dell'azienda, che in questo caso è il titolo corporate o dello stato nel caso in cui parliamo di un titolo di stato, in questo caso italiano. Perfetto, poi hai detto un'altra cosa, le obbligazioni high yield, traduci il termine high yield per il pubblico diciamo normale? Certo, le obbligazioni high yield sono una specie di obbligazione corporate, quindi quello che ci siamo appena detti, quindi sempre emessa da una società privata, la quale però ha un grado di garanzia di solvibilità che è leggermente più basso rispetto all'azienda che emette il titolo corporate, quindi ci sono delle aziende… Scusami, perdonami, solvibilità vuol dire, perdonami io lo so che tu sei un tecnico, però allora garanzia di solvibilità vuol dire che facciamo conto la Fiat dell'Olea Generali o che ne so la Telecom italiana ha un grado di affidabilità per ripagare questi soldi ricevuti in prestito generalmente minore di quelle di uno Stato, giusto? Assolutamente, perché sono aziende private, quindi hanno dei gradi di solvibilità che sono più bassi. Perfetto, e poi diciamo… No, quindi sostanzialmente un titolo a yield solitamente viene definito così, quindi si chiamano… la cui traduzione in italiano, per renderla più semplice, vuol dire titolo ad alto rendimento, vuol dire che è un prestito obbligazionario che offre dei rendimenti più alti rispetto a un normale titolo obbligazionario emesso da uno Stato, quindi a parità di altre condizioni il titolo ad alto rendimento offre di più, perché? Perché chiaramente c'è dietro un'azienda che è meno solvibile, quindi non è corretto dire garanzia, ma è corretto proprio dire termine solvibile, cioè lo Stato è in grado di far fronte più facilmente rispetto ad un'azienda privata al pagamento, quindi va da sé che più rischio nel prestare i miei soldi ad un'azienda privata e più devo ottenere in cambio, quindi titoli obbligazionari ad alto rendimento sono quei titoli che appunto in virtù di questo aspetto mi danno un rendimento, un interesse più alto rispetto al titolo di Stato. Perfetto, allora senti, quindi diciamo ricapitolando, voi con tutte le varie filiali che avete in tutto il mondo, siete in grado di gestire patrimoni privati, personali, societari in tutti quanti i campi per soddisfare tutte le esigenze di tutti i clienti, giusto? Assolutamente, siamo una società che è in grado di svolgere e gestire capitali in diverse tipologie di investimenti che possono appunto andare, come dicevo prima, dalle azioni alle obbligazioni, ma poi all'interno di queste macro categorie possiamo andare a suddividere gli investimenti in maniera più specifica in alcune aree geografico o in altri settori. Ok, senti, vediamo un po' all'attualità che non è tanto bella sia sul lato diciamo del discorso sanitario, quello non è compito nostro parlarne perché io non ho nessun titolo e mi sembra neanche tu ne abbia su questo discorso sanitario, ma mi piacerebbe che tu facessi un po' una situazione, una view, una presentazione di quello che è successo negli ultimi dieci anni, due anni e da poco per andare per capire da dove siamo partiti e come siamo arrivati ad oggi a quello che è successo oggi. Partiamo dal 2008 in cui è successo un po' il famoso problema col europeo per i debiti degli stati, velocemente. Quindi puoi argomentare meglio Alfonso? Nel senso se mi fai un repilogo di cosa è successo, perché siamo arrivati, cosa è successo negli ultimi anni, il mercato è salito e sceso, perché insomma non è e come siamo arrivati ad oggi? Certo, dunque la situazione che stiamo vivendo oggi però consentimi di dire fino circa all'inizio dell'anno, quindi per il momento tralascerei un attimo la situazione contingente legata al coronavirus, quindi quello che abbiamo affrontato fino all'inizio dell'anno è stato un decennio, quindi dalla crisi finanziaria del 2008 in avanti, in cui direi che a livello globale abbiamo vissuto un ciclo economico positivo di crescita che chiaramente è stato della storia, quindi diciamo che prima di questi 12 anni di ciclo espansivo non ci sono mai stati nella storia precedente, quindi vuol dire che solitamente un ciclo economico positivo può durare dai 7, 8, 9 anni, qui diciamo che dalla crisi finanziaria del 2008 il ciclo economico, quindi la crescita dei vari paesi a livello globale si è protratta per circa 12 anni. Questo nonostante… Con dei piccoli inciampi, tipo nel 2018 così… Esatto, questo nonostante dal 2008 al 2020 noi abbiamo avuto anche dei casi in cui questa crescita economica è stata minacciata da qualche piccola crisi e mi viene in mente appunto nel caso più recente quello che citavi tu, l'ultimo trimestre del 2018 dove il mercato ha subito qualche flessione per via del fatto che gli analisti si aspettavano una recessione agli inizi del 2019 che poi non c'è stata. Se andiamo indietro abbiamo avuto casi come il 2013 quando ci fu la crisi degli stati sovrani nonché il caso Grecia, per poi andare ancora indietro praticamente nel 2011 quando nell'estate ci fu una vendita massiccia su tutto il segmento del mercato delle obbligazioni ad alto rendimento. Quindi direi che nel corso degli ultimi 12 anni ci sono state delle situazioni che hanno portato a un po' di turbulenza sui mercati per una sempre imminente fase recessiva che poi di fatto però è stata sempre scongiurata e siamo riusciti a superarla. Perché mi verrebbe da dire siamo riusciti anche però a superarla? Perché come molti degli investitori avranno notato dal 2008 ad oggi sono sempre intervenute le politiche monetarie delle banche centrali a supporto del sistema creditizio in prima battuta il quale poi a sua volta ha dovuto sostenere il tessuto imprenditoriale ed economico dei vari stati. Quindi è chiaro che l'immissione di liquidità, il fatto che le banche centrali abbiano aiutato stampando moneta come anche nel caso della Fed le banche e di conseguenza il tessuto imprenditoriale ha permesso al mercato di poter prolungare questo ciclo espansivo economico per ben 12 anni. Da un altro lato che cosa ha comportato questo? Chiaramente questo ha portato ad un cambiamento nelle abitudini degli investimenti nel senso che l'investitore retail si sarebbe reso conto da solo che 20 anni fa un titolo di Stato rendeva molto di più rispetto a quello attuale semplicemente perché i tassi di interesse erano ben più alti. Quindi il lato negativo, se vogliamo, delle politiche monetarie che abbiamo vissuto dal 2008 ad oggi è che queste hanno abbassato notevolmente i tassi di interesse e tale per cui chiaramente l'investitore si è trovato di fronte a delle scelte che erano ben differenti da quelle che tradizionalmente erano state fatte in passato. Per arrivare a quello che dici te, oggi ci sono i tassi negativi, guardiamo i Bund tedeschi che sono considerati tra i più sicuri nell'Europa hanno tassi negativi. Io ti do 100, tu a scadenza mi dai meno di 100 Euro. Assolutamente, esatto. Paradossalmente Alfonso oggi siamo nell'ipotesi in cui un investitore europeo al netto dell'inflazione se dovesse comprare un titolo di Stato decennale, che è preso come ad esempio, sostanzialmente al netto dell'inflazione avrebbe un ritorno in termini di interesse negativo, proprio perché l'inflazione va a erodere completamente il tasso di interesse che viene corrisposto e addirittura si va in negativo. Quindi la situazione è sicuramente cambiata nell'arco degli ultimi 10-12 anni rispetto a quello che di fatto si faceva tradizionalmente in passato. Negli anni 80 bastava comprare un titolo di Stato italiano con scadenza a un anno e i risultati erano addirittura con interessi superiori al 10% ed è per questo che oggi l'investitore privato, anche un pochino più esperto, ha bisogno di una guida esperta, di un consulente finanziario che lo ascolti, ascolti le sue esigenze e gli faccia un progetto e di voi che poi gestite i soldi, perché da soli è un po' complicatuccio mi sembra, anche per voi non è semplice oggi fare il vostro lavoro? Assolutamente, è una materia molto complicata, complicata per noi che siamo chiaramente nel settore, complicata per voi che siete nell'ambito dell'intermediazione finanziaria, posso immaginare che lo è ancora più complicata per l'investitore finale. Sicuramente direi che affidarsi ad un consulente finanziario è la scelta migliore, uno perché è la persona abilitata a questo tipo di mansione, due perché la consulenza finanziaria e la pianificazione richiedono degli strumenti e delle capacità professionali abbastanza elevate, quindi ritengo che sia la soluzione migliore. Senti, tu che analogie ci vedi se ci sono differenze fra quella del 2008 e quella di oggi, di questa crisi di oggi. Quella del 2008 fu una crisi legata al mondo finanziario, tutto scaturì, se ricordiamo, dalla crisi della Lehman Brothers, quindi la banca d'affari più grande al mondo fallì, non ci fu l'interesse o non ci furono gli strumenti per poterla salvare e quindi questo scaturì in una crisi legata prevalentemente al mondo finanziario che poi è stata, andò a contagiare anche se vogliamo la crescita economica degli stati. La famosa crisi del prime, la famosa crisi del prime, no? Assolutamente, assolutamente. In quell'epoca c'era un elevato livello di leva e di indebitamento tale per cui molte aziende hanno sofferto. Leva? Chiarisci leva? Per leva si intende quando un'azienda investe più denaro di quello che ha, quindi anche il singolo imprenditore nel momento in cui vuole espandere la propria attività molto banalmente richiede dei prestiti e questi prestiti chiaramente prima o poi dovrebbero essere ripagati. Diciamo che si erano troppo indebitati, si sono trovati a non avere più soldi per ripagare i prestiti e sono falliti, hai fatto terra terra, insomma questo è il discorso, esagerando prendere soldi. Esatto, questo è quello che accade nel tessuto imprenditoriale, poi chiaramente la leva riguarda anche la leva finanziaria, cioè molte aziende chiaramente poi sappiamo che questo si ripercuote in vari ambiti. Hanno fatto delle scommesse le banche o società finanziarie un po' esagerate anche loro, il mercato ha avuto dei brutti risvegli, chiamiamoli così, e si sono trovati anche loro, l'Eman è fatita per questo perché non ha avuto più soldi per far fronte ai propri impegni. Assolutamente, assolutamente. Quindi direi che quella del 2008 è stata una crisi più legata al mondo finanziario e poi successivamente al tessuto economico, invece quello che sta accadendo in questi giorni è dipeso da un fattore esogeno, un fattore imponderabile, qualcosa che era fuori dal mondo della finanza e qualcosa che era fuori dal mondo dell'economia. Quello che stiamo vivendo con il coronavirus è qualcosa che a nostro avviso ha segnato la storia, è come proprio se abbiamo marcato con una bandierina qualcosa che non si era mai verificato prima, sia da un punto di vista dei mercati finanziari, sia da un punto di vista della storia, ma anche da un punto di vista economico. Quindi direi che sono due tipologie di eventi completamente diversi. Perché questo potrebbe essere un elemento da non trascurare? Semplicemente perché, come stiamo vivendo tutti, questo ha un impatto diretto sulla crescita economica. Quindi qui non si sta parlando della tenuta del sistema creditizio, ma si sta parlando della tenuta dell'economia, perché nei momenti in cui le persone sono obbligate a stare a casa, oggi leggevo un'analisi, ad oggi ci sono a casa, quindi obbligate a stare a casa, 3 miliardi e mezzo di persone nel mondo. La metà del mondo? Bravissimo. Se considerate che siamo 7-8 miliardi, la metà è in questo momento a casa. Il che vuol dire bloccare tutto quello che è il settore della ristorazione, settore della cultura, settore dei trasporti, non è un caso quindi che anche il petrolio è sceso, turismo. Quindi questo ha un impatto nell'immediato notevole su quella che è chiaramente la crescita economica dei vari paesi a livello mondiale, perché se si blocca il tessuto imprenditoriale va da sé che chiaramente le banche centrali e gli stati stanno intervenendo, ma nell'immediato è difficile poter tamponare subito questa situazione. Per cui l'analogia non sussiste, se vogliamo non sussiste neanche nell'ambito finanziario, visto che stiamo parlando di finanza, perché quello che abbiamo avvertito è che negli ultimi 12 anni ci sono stati storni di mercato. Prendiamo per esempio un indice più rappresentativo, l'indice della borsa americana, quindi lo Standard and Poor's 500, che rappresenta le più grosse 500 aziende americane. Questo è un indice sostanzialmente che negli ultimi 12 anni ha avuto 9 volte uno storno, quindi è sceso per circa 9 volte. Dico però da dove è partito e dove era arrivato fino a gennaio del 2020? Prima del coronavirus, ve lo dico subito, era sui massimi della storia. Quanto aveva guadagnato dal 2000 e oggi ad oggi? Di quanto si era rivalutato? Beh, dal 2008 ad oggi penso che abbia fatto più del doppio sicuramente, adesso numero in mano secondo me è probabile anche che abbia fatto quasi due volte quello che era 12 anni fa. Il 200% è balsa, insomma se un investitore avesse messo il 1000 euro a quei tempi sarebbero diventati moltissimi. Assolutamente, avrebbe sicuramente più che raddoppiato il proprio capitale, nonostante che il fatto che ci siamo detti prima ci sono state diverse circostanze che hanno, se vogliamo, stoppato o interrotto un po' il ciclo di crescita economica. Pertanto direi che questa è una fase in cui abbiamo sperimentato che la caduta dei listini, quindi lo storno dei listini è stato violento quasi come quello del 2008. Nel 2008 ci fu una perdita più alta, ma la cosa che abbiamo notato è che la caduta è stata in un lasso di tempo molto più ristretto. Quindi mentre in passato gli storni che ha avuto l'indice si è verificato nell'arco di 2-3 mesi, qui l'abbiamo sperimentato praticamente nell'arco di neanche un mese. Quindi nell'arco di 15-20 giorni abbiamo subito una caduta dei listini finanziari molto forte che poi ha trovato un suo supporto, però ecco la differenza è anche in questo. Pertanto, per tornare alla tua domanda e per chiudere, l'analogia tra 2008, io l'unica analogia che vedo, no c'è un'analogia, cioè i mercati temono sempre la mancanza di notizie, ok? I mercati finanziari intendo, temono sempre quello che è la mancanza di notizia piuttosto che una non chiara, un non chiaro segnale. Ecco, l'analogia è questa, in entrambi i casi si è verificato questo, però per due motivi completamente differenti. Senti, per arrivare appunto a questo discorso, la caduta c'è stata fortissima e chiaramente tutti dicono la ripresa. Allora ci sono i tre tipi di riprese di cui parlano tutti, quella V, quella U e quella L. Due parole su questo, allora quella V vuol dire caduta fortissima e risalita fortissima, come un po' la V, la V grande della lettera. Quella U c'è una caduta, un po' di permanenza sul fondo e poi a U si risale e poi c'è quella L che invece rimane un bel po' sul fondo per poi risalire con molta meno, diciamo, ci vuole molto più tempo per risalire. Voi come Columbia Treadniter cosa prevedete che sarà? la ripresa, come sarà? Sicuramente ci sarà perché c'è sempre stata, nell'arco della nostra storia ci siamo sempre rialzati e siamo sempre andati avanti da che l'uomo esiste, no? La peste nera, il 2000, il baco del 2000, la tecnologia, tutto, è successo di tutto, no? Nell'arco di tantissimi anni. Sicuramente ci si risaliranno i mercati, ma come? Quando? Ma guarda Alfonso, allora è chiaro che in questo momento si possono fare semplicemente delle supposizioni perché al momento non ci sono chiaramente dei dati certi o dei dati concreti su quale eventualmente poter fare delle future proiezioni realiste. Il semplice motivo per il quale non si può fare è abbastanza chiaro a tutti, nel senso che fin tanto che non c'è una cura al coronavirus non si può scongiurare di essere usciti dalla pandemia. Quindi ad oggi qualunque tipo di supposizione è molto difficile. Allora, quello che si può fare però è cercare di capire il contesto. È chiaro che ci troviamo davanti a un bivio, ovvero paradossalmente più misure drastiche verranno prese nell'immediato, più saranno negative le risposte che avremo sul mercato nel breve, ma migliori saranno le risposte del mercato e dell'economia nel lungo termine. Quello che voglio dire è se si pongono subito delle misure in atto tempestive, come per esempio il fatto di stare a casa piuttosto che le banche centrali che immettono liquidità eccetera eccetera, noi potremmo subire uno shock immediato nel brevissimo termine, però secondo noi potrebbe essere meglio poi nel medio e lungo termine, perché è chiaro che la cosa poi viene arginata. Se invece non viene fatto nulla adesso, è chiaro che poi questa cosa si continua a protrarre nel tempo e difficilmente ne uscirà. Certo, però mi pare che sia le banche centrali, sia gli stati, stanno prendendo tutti quanti delle contromisure, la Fed con il suo programma di racquisto titoli, lo Stato americano con l'immissione sul mercato di tantissimi soldi, noi italiani, l'Europa, anche l'Unione Europea ci sta mettendo, anche se ancora non siamo arrivati ai coronabondo, gli eurobondo, però insomma sembra che tutti quanti ci stiano mettendo tanti soldi per cercare di uscire da questo, non so se sei d'accordo. Sono assolutamente d'accordo, infatti come dicevo nel breve stiamo vivendo delle situazioni in cui stanno mettendo in atto delle misure assolutamente interessanti, sia da un punto di vista della gestione della popolazione, quindi il fatto di stare in casa, ma soprattutto anche da un punto di vista della gestione del sistema finanziario e del sistema economico e quindi secondo noi questo è un vantaggio, perché come dicevo prima più drastiche sono le misure nel breve, più negativi saranno gli effetti che possiamo sentire nell'immediato, ma ne usciremo meglio poi in un futuro. E' chiaro che per poter fare delle analisi se sarà una ripresa o no AV, AL o AU, dobbiamo avere a disposizione maggiori strumenti, cioè cosa vuol dire? Innanzitutto l'unica cosa che può creare un effetto AV è che domani venga fuori una terapia e una risoluzione a quello che è il coronavirus e questo chiaramente potrebbe una cosa sanitaria, quindi un effetto sanitario che chiaramente aiuti a debellare la pandemia e quindi a questo punto il mercato chiaramente pensiamo che possa reagire in maniera positiva. Poiché questa cosa al momento ha delle probabilità molto basse o che comunque non sappiamo ancora, è molto auspicabile aspettarsi che la ripresa possa essere anche una ripresa AU, quindi vuol dire che abbiamo visto scendere il mercato, siamo in una fase in questo momento in cui stiamo ponendo delle misure e la soluzione non sarà poi neanche tanto a medio-lungo termine. E' probabile anche che però se la soluzione medica non dovesse pervenire e ci fosse un rischio di ricaduta, perché tutti abbiamo sentito che se la cosa si portrà fino all'autunno chiaramente ci potrebbe essere un secondo punto. Brutta notizia, brutta notizia. Esatto, allora a quel punto è presumibile che ci possa essere questa ripresa L, dove il fondo valle quindi è molto più lungo di quanto noi ci aspettiamo. Ripeto, al momento è molto difficile, non sappiamo quali di questi esiti ci possano essere, perché ripeto c'è qualcosa che è fuori dalla portata dell'economia e della finanza, cioè non sono dati prospettici su quelle che sono delle analisi di mercato o via dicendo, ma c'è un qualcosa che è esogeno, quindi c'è un fattore umano, un fattore medico che chiaramente deve essere risolto e quindi questo non ci porta a fare delle previsioni reali. Davide? Sì? Ah, non ti sentivo più. Dicevo, senti, voi come Columbia Trade Needle come vi siete mossi, diciamo, fino a gennaio la vostra view dei vari fondi, come eravate posizionati, la quantità di azionario, obbligazionario, cash sui fondi, come vi siete trovati e come state muovendovi adesso sul mercato, cioè rientrate, non rientrate, state accumulando, state aspettando, cosa state facendo, come siete trovati e cosa state facendo? Dunque, allora, chi ci conosce sa che siamo una società di gestione che è molto attenta nei momenti in cui andiamo a fare la selezione dei titoli sia azionari che obbligazionari che inseriamo all'interno dei portafogli e quindi il nostro compito è tutti i giorni incontrare le aziende, proprio banalmente le aziende che producono sul territorio, per cercare di capire qual è il loro business, che cosa fanno, quali sono le loro potenzialità, qual è il loro bilancio, che sviluppi possono avere nel corso del tempo e via dicendo. Quindi il nostro obiettivo è ricercare sempre titoli che appartengono a aziende di elevata qualità. In virtù di questo tipo di attività che noi sfacciamo, sembra paradossale dirlo, ma i nostri portafogli sono sempre stati composti da aziende di elevata qualità, tale per cui non abbiamo avuto occasione di dover apportare dei radicali cambiamenti nei nostri portafogli perché crediamo che nei momenti in cui hai già dei fondi con all'interno elevata qualità in termini di aziende, questa qualità è in grado di da un lato essere più resiliente a questa fase di difficoltà, quindi resiliente vuol dire riuscire a affronteggiare meglio le situazioni di difficoltà, a uscirne meglio. Quindi è colui che è più forte in questo momento e secondo noi lo sarà ancora di più nei momenti in cui questa situazione sarà passata. Quando tu dici noi abbiamo aziende di qualità, qua mi riallaccio un attimo a una cosa, voi siete un gestore attivo? Sì. Ok, dopo magari ti faccio una domanda precisa su questo. Un gestore attivo è colui che come hai detto fa, incontra le aziende, fa ricerca, cosa vuol dire avere nel proprio portafoglio titoli di società di qualità? In che senso qualità? A me mi viene in mente, da non analista finanziario, non società di gestione dei risparmi, come se vuoi, una cosa che guida la scelta delle aziende è il price earning, cioè il rapporto fra il prezzo di una società e i suoi utili. Che dice la teoria generale che dovrebbe stare, per avere una buona tranquillità, sotto il 15? Non so se voi siete d'accordo con questa teoria generale. Le aziende che voi avete in portafoglio rispecchiano un po' questa indicazione generale? Ma allora, diciamo che come gestore attivo, la nostra definizione di gestore attivo è sostanzialmente quella di un gestore che, come dicevo prima, è molto attivo, quindi si applica molto per andare a incontrare le aziende e prima di diventare azionisti di queste aziende e quindi comprare il titolo e inserirlo nei nostri portafogli, sia che si tratti di un titolo azionario che obbligazionario, praticamente spendiamo molto tempo per fare delle analisi. Quindi cerchiamo di incontrare, diciamo, tutta la filiera dei direttori che compongono questa azienda, quindi quello che si chiama il management, quindi cerchiamo di capire che business fanno, cerchiamo di capire quali sono i dati di bilancio, cerchiamo di capire se questa azienda produce un bene oggi e questo bene ci potrà essere anche fra vent'anni. Quindi cerchiamo di fare delle analisi sulla qualità dell'azienda e nei momenti in cui riteniamo che queste aziende hanno dei numeri di elevata qualità, li inseriamo nel portafoglio. Tu citavi il prezzo utile per azione, questo è uno dei tanti aspetti che noi andiamo a considerare. Però è uno di quelli più citati quando leggi qualche libro, quando in generale è un po' questo quello che citano, no? Sì, esatto. Diciamo che per esempio un indicatore molto importante, per esempio oltre al price earning, per noi è importante il ritorno sul capitale. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu nei momenti in cui investi un euro nella tua attività produttiva, noi cerchiamo di capire quanto ti ritorna indietro di quell'euro. Perché tu sai che ci sono aziende che magari investono un euro, ma poi dall'attività produttiva non riescono ad avere un elevato ritorno su questo euro. E quindi vuol dire che hanno investito buona parte dei propri capitali senza averne dei ritorni. Noi cerchiamo invece di capire se l'azienda ha un elevato ritorno su quell'euro. Fammi un esempio di un'azienda del genere che ha un elevato ritorno su quell'euro. Ma per esempio un'azienda che ha un elevato ritorno sul capitale può essere Mastercard. Mastercard è un'azienda che ha circa il 40% di ritorno sul capitale negli ultimi 10 anni. Quindi Mastercard è un'azienda che tutti conosciamo perché chiaramente fanno carte di credito e il business delle carte di credito è molto interessante perché soprattutto qua anche in questa fase dove la gente a casa, chi compra, compra online e quindi di conseguenza indirettamente anche le carte di credito, il business delle carte di credito ne trae vantaggio. Quindi questo è un esempio di solidità di un'azienda che ha un elevato vantaggio competitivo. Ne fai invece uno di al contrario? Uno invece che ha un bassissimo ritorno sul capitale investito, per esempio? No, in questo momento diciamo che non ho sottomano perché mi concentro sui titoli che chiaramente magari sono di buona qualità. però ecco diciamo che magari di settori, ecco i settori che di solito noi non abbiamo nei portafogli e proprio perché sono slegati da logiche di elevata qualità o di profitti sono i settori per esempio energetici, settore delle utilities, cioè le società di pubblica utilità. Gas, luce, energia, questa roba qua. Perché sono società che sostanzialmente molto spesso devono sottostare a delle tariffe che sono imposte dallo Stato e dai governi, non possono essere libere di aumentare indiscriminatamente il prezzo della luce o del gas e pertanto quando un'azienda non è libera di fare chiaramente dei propri, disporre dei propri mezzi per fare, per avere dei ritorni elevati sui profitti chiaramente noi non ci piace più di tanto. Pertanto questi sono dei settori sui quali tradizionalmente noi siamo abbastanza direi sottopesati, quindi un'argetto energetico è più bello. Visto che siamo nell'ambito dei settori, che siamo entrati in quest'ambito, abbiamo fatto un discorso generale, siamo scesi più nel particolare anche andando sulla view dei mercati per voi, come azienda voi quali sono i settori che prediligete per i vostri fondi, quali sono quelli buoni e quelli che invece non vi piacciono? Quali sono le cose come settori che prediligete di andare? Come settori direi che sostanzialmente, come dicevo prima, settori che hanno all'interno aziende che possono rispecchiare queste caratteristiche, si può passare dal settore per esempio della tecnologia, che chiaramente negli ultimi anni ha avuto un esploit molto forte, per tecnologia per esempio parliamo di aziende del calibro per esempio di Microsoft, piuttosto che alcune aziende legate ai semiconduttori, che sono sostanzialmente i microchip che troviamo dentro i nostri telefonini, i nostri computer, dentro le televisioni. per esempio in questo momento aziende come Microsoft stanno sfruttando al massimo tutto quello che è il business legato al cloud, quindi all'immagazzinamento dei dati e alla velocità di trasmissione dei dati e poiché il mondo, metà del mondo è fermo a casa e lavora in smart working potete immaginare qual è il vantaggio che queste aziende possono sfruttare in questa fase di mercato. Quindi dalla tecnologia al settore farmaceutico per esempio è un altro settore sul quale siamo abbastanza presenti, soprattutto perché c'è un fattore demografico, quindi al di là della situazione attuale legata al coronavirus però poi c'è anche un fattore demografico, ci sono degli stati per esempio come quello italiano o comunque tutta l'Europa che ha una piramide legata all'invecchiamento della popolazione molto elevato, per cui siamo presenti su delle società che addirittura fanno diagnostica preventiva sulle malattie piuttosto che poi curarle, piuttosto che settori come i finanziari ma più verso appunto o il business delle carte di credito oppure verso quelle che sono banche che sono più esposte verso la pianificazione finanziaria, quindi banche che sono più vicine al cliente per quanto riguarda gli investimenti, un po' meno verso quella che è la banca tradizionale che come dicevamo prima per via dei bassi tassi di interesse chiaramente ha dei margini sempre più ridotti. Quindi direi che i primi tre settori che mi sono venuti in mente sono appunto tecnologia, farmaceutici e finanziari dove siamo più sovrappesati e invece quelli un po' sottopesati sono appunto servizi, settore immobiliare, energia, materie prime che come dicevo hanno delle aziende che hanno pochi margini di profittabilità. Senti, un'altra domanda, sai che i gestori sono un po' tra gestore value e gestore grow, se magari dai la spiegazione di cos'è un gestore value e un gestore grow e dici anche voi qual è la vostra anche posizione rispetto a questa cosa, se avete superato qualche società mi dice che non c'è più qualche la diversificazione, c'è la divisione fra le due che ormai non c'è più. Voi come la pensate su questo? E se spieghi un attimo la differenza tra value e grow? Ma allora diciamo che la differenza c'è ancora, nel senso che ci sono aziende che sono tipicamente improntate verso uno stile definito value e aziende che invece sono più storicamente portate acquistare titoli definiti growth. Per esempio noi siamo una società che è molto più verso il growth che non verso il value. Lo spieghi un attimo, non le differenze? Sì 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 certo, allora diciamo che la differenza distanziale... Scusa? No no, dico magari vai avanti tu perché la spiegazione è importante, se no poi non abbiamo spiegato e quella è importante. Diciamo che in maniera molto semplice, molto sintetica, lo stile growth è uno stile di investimento, ovvero quindi si vanno a ricercare aziende e quindi titoli da inserire nei portafogli, quindi fondi comuni di investimento, che stanno crescendo in maniera rapida e costante. Quindi direi che punta sulle aziende di settori in fase di rapida espansione. Hai un esempio di un'azienda... Per esempio il settore tecnologico è molto più di approccio growth che non di approccio value sostanzialmente, poi è chiaro che all'interno dello stesso settore ci possono essere entrambi i titoli, per cui ci sono un po' aziende dell'altro, però tendenzialmente direi che è qualcosa che riguarda titoli sui quali si è particolarmente ottimisti, quindi aziende che sono più promettenti per il futuro, quelle con un'aspettativa di rapida crescita e aumento dei profitti nel futuro. Invece l'approccio value è un investimento su azioni che garantiscono buoni dividendi, anche in fase di recessione, perché le aziende che le hanno emesso hanno solitamente buoni fondamentali di bilancio. Di solito per esempio prediligono le aziende che al momento sono sottovalutate, quindi hanno un prezzo inferiore alla media, ma che comunque hanno buoni fondamentali e di solito lo stile value è di fatto più difensivo, tendono ad andare meglio quando il mercato è in una fase ribassista rispetto alle aziende growth che invece tendono a subire un maggiore calo. Quindi direi che sostanzialmente i due stili sono uno un po' il contrattare dell'altro, quindi in un approccio di mercato, quando c'è un mercato particolarmente a rialzo le aziende growth tendono ad andare leggermente meglio, quando c'è un mercato a ribasso le aziende value tendono a proteggere di più, perché si parla di aziende che hanno dei buoni bilanci e di solito sono molto più attenti agli azionisti, magari elargendo dividendi e di quanto non lo facciano le aziende growth. Voi siete più growth? Pronto? Davide, mi senti? Adesso ti sento. Dicevo, voi siete più con un stile growth? Se noi andiamo a guardare la nostra storia e i nostri portafogli e facciamo una disamina dello stile di investimento, direi che la nostra caratteristica è stata più verso il growth nel corso degli anni che non verso il value. Ok, senti un'altra domanda, poi ci abbiamo verso la fine, abbiamo detto che voi siete un gestore attivo, il contrattare è la gestione passiva, che sono tipicamente un po' il mondo degli ETF, non so se sei d'accordo? Certo, assolutamente sì, qui si apre un discorso che è molto attuale, soprattutto perché in passato c'erano meno strumenti passivi di quanto non ce ne siano oggi. In sostanza, proprio per rendere anche qui il concetto abbastanza semplice, la gestione attiva, come dicevo prima, prevede che c'è un fattore qualitativo molto elevato, vale a dire che c'è un gestore, c'è un team di esperti, un team di analisti e una società che quotidianamente analizza ed incontra le aziende affinché poi vengano inserite all'interno dei classici fondi comuni di investimento. Invece l'approccio passivo non prevede un aspetto qualitativo elevato, perché di fatto l'approccio passivo vuol dire replicare, quindi copiare, se vogliamo il termine più semplice che mi viene in mente, l'andamento di un indice di borsa, quindi per esempio la borsa italiana ha l'indice che conosciamo tutti che è il FUZI MIB, ecco uno strumento passivo sulla borsa italiana vuol dire che copia e replica fedelmente quello che fa l'indice tutti i giorni, quindi di fatto non c'è un apporto qualitativo perché non fa altro che replicare esattamente quello che l'indice fa tutti i giorni. Pertanto la gestione attiva qual è il vantaggio? Il vantaggio è che sia nelle fasi di rialzo che nelle fasi di ribasso del mercato ci si può attendere auspicabilmente che l'apporto umano qualitativo del gestore o della società o del team possa difendere nelle fasi negative del mercato e possa addirittura premiare di più nelle fasi rialziste del mercato. Con uno strumento passivo tutto questo non c'è perché a priori io saprò già che mi muoverò esattamente come si è mosso del mercato. Ok, chiaramente il gestore attivo come voi ha un costo più elevato perché fare tutto quello che hai detto, cioè la ricerca, attiva, andare, vedere, fare, è che non tu un costo però il proposito è di gestirlo meglio. Quello passivo costa molto meno, chiaramente, però se il mercato sale il fondo ETF sale, se il mercato scende il fondo ETF scende e non può fare assolutamente niente di diverso da ciò, cioè il gestore dell'ETF sullo standard PUR500, sul Putsimib, non è che se decide di mettersi in liquidità lo può fare, assolutamente no. Non so se questa è la cosa... Assolutamente, diciamo che gli strumenti passivi hanno alcuni aspetti positivi che sono in primis legati ai costi, in effetti costano molto poco, perché di fatto c'è dietro uno strumento più tecnologico, cioè diciamo che c'è più un software che gestisce la cosa di quanto invece non sia la gestione attiva che invece è fatta da un team di esperti, di persone e di analisti. Quindi uno dei vantaggi degli strumenti passivi è sicuramente il costo, però i lati negativi sono appunto quelli che dicevi, nel senso che replicando un indice io so già a priori quello che farò, perché tutti i giorni quando apro la sessione in internet per vedere cosa fanno i mercati saprò che il mio ETF farà tanto quanto fa quel mercato. Con un gestore attivo posso auspicabilmente aspettarmi di più o comunque meglio nelle fasi negative del mercato. È un po' come dire nell'ambito culinario pago di più per avere una cena fatta da uno staff stellato piuttosto che comprare i quattro salti in padella che chiaramente sono già confezionati in una busta. Con 3 euro me la cavo, ma è attresivero che non posso aspettarmi la miglior pasta cucinata all'interno di una busta di plastica. Insomma, se voglio una pasta cucinata come si deve devo andare al ristorante e vengo anche trattato meglio. Allora, come tutte le cose chiaramente ogni strumento ha i suoi pro e i suoi contro e ha un costo e un altro costo. È come se ti compri una Mercedes o una BMW da 100.000 euro a quattro ruote e cammina, se ti compri una macchina da 10.000 euro a quattro ruote e cammina, ma sono due cose completamente differenti, non sono uguali. Sono praticamente due strumenti che chiaramente hanno delle peculiarità ed è questo uno dei motivi per i quali crediamo che possano coesistere, nel senso che non c'è un fattore che elimina l'altro. Sono due strumenti che possono coesistere, possono soddisfare due tipologie di investitori completamente differenti e quindi di conseguenza è giusto che ci siano. In passato ce n'erano meno, oggi ce ne sono di più, ma non crediamo che uno, ripeto, possa eliminare l'altro. Sono due strumenti che continuano insieme nel futuro e devo aggiungere però che la gestione attiva è quella che di fatto nei momenti in cui occorre valutarla, per esempio quelli attuali, è sicuramente premiante perché se un gestore è bravo, se una società è brava, anche in queste fasi avverse del mercato riescono a dare del valore aggiunto rispetto alla gestione passiva. Certo, ma poi anche perché ci sono gestori professionali come voi o come altri, magari voi no, però che li usano nelle proprie gestioni per ottimizzarle in certi momenti usano anche gli ETF, non è che li demonizzano a prescindere. Se sono usati per uno scopo ben preciso in un certo modo sono utili anche loro, non è che non li usano assolutamente, non so di essere d'accordo. Assolutamente, infatti molto spesso gli strumenti passivi come gli ETF sono più utilizzati dagli addetti ai lavori, proprio perché hanno un costo molto basso, hanno una reattività in termini di tempistiche, cioè si può entrare e uscire molto più velocemente che non sui fondi comuni di investimento e pertanto si addicono molto di più a chi è addetto ai lavori. Quindi parliamo di compagnie assicurative, fondi pensione, la gestione è anche più grandi. Specialisti, non sono secondo me un prodotto come è stato venduto un po' per il pubblico retail così che secondo me può essere usato ma non è proprio il massimo nelle mani inesperte di persone qualsiasi, secondo me poi ognuno ha la sua idea. Sì, certo, assolutamente. Secondo me, ripeto, lo strumento fondo comune di investimento è qualcosa che è molto semplice, molto liquido, trasparente, giuridicamente slegato dalla società che lo gestisce. Sicurissimo, a 100% sicuro, nessuno li può toccare quei soldi, non c'è mai stato un caso di problema, mai. Direi che il termine sicuro è difficile da utilizzare, però una cosa certa è che essendo giuridicamente slegati dalla società sono depositati presso il libro degli azionisti in Lussemburgo. Sì, sicuro nel senso che non è che la Columbia è proprietaria di questi soldi, li gestisce. Esatto, nessuna società di gestione è titolare della SICA, pertanto la società di gestione gestisce quella SICA, però poi il libro degli azionisti è depositato ed è regolamentato dagli organi di vigilanza. È controllato da un'altra società, è controllato da un'altra banca, ognuno ha la sua parte di controllo sull'altro, per cui lo dico sicuro, non sicuro in questo senso qua. Senti Davide, ti ringrazio della chiacchierata, è stato molto positiva, almeno mi sembra che abbiamo affrontato tanti argomenti chiarendoli un po' nel dettaglio. Prima di salutarti ti volevo fare una domanda un po' più personale, se ti va di raccontarti come persona, perché abbiamo parlato molto seriamente di soldi, di investimenti, tante cose, ma chiaramente dietro a ogni società ci sono le persone e anche tu sei una persona che ha oltre all'aspetto da banchiere o da finanziere un po' paludato, chiaramente anche tu hai una vita privata, quindi se ti va di raccontare molto brevemente sposato, non sposato, figli, separato, sport, passioni, insomma due parole per gli ascoltatori e così per dire chi sei nella vita privata. Sì certo, io sono felicemente sposato con una famiglia con due bimbi, quindi direi che il culto della famiglia mi è stato tramandato sia a me che a mia moglie dai nostri genitori, pertanto è qualcosa che ci piace e questo è un momento che stiamo vivendo serenamente, nonostante chiaramente mi rendo conto che molta gente in questo momento invece è meno serena, però il fatto di passare tanto tempo in casa mi ha permesso chiaramente di passare molto tempo con la mia famiglia, di fare colazione, pranzi, cene tutti insieme e quindi di conseguenza dedicare anche io molto tempo a infondere nei miei bambini quello che è il concetto della famiglia che secondo me è molto importante. Io sono una persona molto trasparente, mi piace la schiettezza, sono molto solare, mi piace stare insieme alle persone, quindi direi che le caratteristiche che mi contraddistinguono è proprio la positività da un lato e dall'altro lato mi piace essere molto sincero, non amo i sotterfugi, non amo le bugie. Da un punto di vista sportivo mi piace tanto giocare a tennis, quindi sostanzialmente sono un fan sfegatato del tennis in generale, ma chiaramente di tutti i bravi tennisti perché è uno sport che richiede tanto impegno di testa, quindi concentrazione, ti pone delle sfide che puoi mettere in pratica nel tennis, ma nella vita quotidiana, perché sappiamo che la vita quotidiana è sempre un match aperto, non devi mai mollare fino all'ultimo punto e molto spesso abbiamo visto gente che per un punto ha vinto dei grandi slam, ma anche per un punto li ha persi, quindi sostanzialmente questo ti porta a capire che nella vita non devi mai mollare e mai perdere le speranze. Detto questo, quindi direi che sono molto felice e mi ritengo anche una persona molto fortunata che non è da poco. Senti Davide, vuoi lasciare riferimenti per la società o per te, se qualcuno vuole andare a vedere tutti i riferimenti della tua società di cui sei responsabile retail, vuoi lanciare i contatti? Ma guarda, direi che il messaggio che volevo lasciare in primis è che innanzitutto ti ringrazio Alfonso perché è stata una bella opportunità, la seconda cosa è che chiaramente tu devi essere il punto di riferimento per i tuoi clienti perché sei una persona altamente qualificata e quindi sei la persona anche che da un punto di vista normativo sei proprio l'interfaccia per la clientela. Da un punto di vista direi della nostra società sicuramente tu puoi essere il nostro intermediario ma qualora voleste vedere qualche informazione di più potete consultare il nostro sito internet che è www.columbia3deniddle.it quindi c'è la pagina italiana e lì potete trovare informazioni nonché anche dettagli su quelle che sono alcune nostre strategie piuttosto che analisi di mercato. Perfetto, poi giustamente come hai detto tu da bravo consulente finanziario sono io che devo fare l'intermediario tra i clienti e voi, quindi sono quello che raccoglie le esigenze le clienti e le convoglie verso di voi, quindi Davide ti ringrazio ancora, buon lavoro, anzi buon smart working come si dice adesso, ormai perché siamo tutti confinati in casa e magari ci sentiamo fra qualche mese per un aggiornamento, ok? Perfetto, assolutamente grazie Alfonso e mi raccomando siamo tutti a casa e ce la faremo, ormai è un motto che ci perseguita da più di un mese. Perfetto, ciao Davide, ciao alla prossima. Ciao Alfonso, alla prossima. Bene, anche oggi è stato un incontro interessantissimo con questo gestore, se ti è piaciuto vai su Apple Podcast e metti le 5 stellette superstar e lascia anche un commento se vuoi e un like sugli altri podcast che puoi trovare in giro. Alla prossima! Ora un piccolo disclaimer in merito agli argomenti trattati in questa puntata. Ogni informazione o d'opinione di cui ho parlato è strettamente personale, può essere oggetto di cambiamento senza ravviso. Ogni ascoltatore è libero di controllare, informarsi in merito e crearsi la sua personale opinione riguardo agli argomenti trattati. I fatti, le previsioni, le idee e le informazioni contenute in questo podcast non costituiscono sollecitazioni all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari, bancari, assicurativi o simili e non costituiscono sollecitazioni di pubblico risparmio. Alfonso Selva non è responsabile di nessuna decisione di investimento e disinvestimento presa dagli ascoltatori che decidono in piena autonomia decisionale e a proprio rischio. Grazie.